Parco dello Storga senza manutenzione, percorsi e passerelle chiusi con le transenne risorse nelle casse provinciali non ce ne sono più per gestire i 67 ettari di polmone verde accanto al Sant'Artemio. Parco abbandonato ma non dimenticato, chiarisce il neopresidente della provincia Stefano Marcon. La provincia che guido da poco più di un mese ha in mente il Parco dello Storga. Abbiamo una progettualità alla quale stiamo dando corpo. Sostanzialmente prevede, oppure speriamo di poter contare sul contributo dei privati e del mondo delle associazioni e del volontariato. Mondo che il consigliere delegato Giannicelli, al quale ho dato una delega specifica, ha contattato e stiamo lavorando assieme per vedere di trovare l'opportunità per rendere fruibile il Parco dello Storga, magari se non in toto a stracci, dare un primo segnale che la città aspetta da tempo. Se non ci sono i soldi bisogna farsi venire delle buone idee, dicono Marcon e Giannicelli, e dunque per riportare il Parco a una piena fruizione si batte la pista dei privati. Anche perché il presidente vede ben poco percorribile la strada del coinvolgimento dei sindaci suggerita dagli ambientalisti. È difficile chiedere ai comuni che non hanno competenza, oddio, benvenga se ci sono i comuni che si mettono a disposizione per lavorare a quattro mani con la provincia. Io benvolentieri colgo tutte queste opportunità da sindaco, presumo che ci siano delle priorità maggiori per ogni singola realtà. Però benvenga, se arriva un'apertura, una proposta da parte dei comuni interessati, la provincia è disponibilissima a collaborare.